Saremo la forza trainante della coalizione e siamo pronti a governare le marche martoriate dal PD negli ultimi anni. Gli onorevoli Riccardo Augusto Marchetti e Andrea Crippa, insieme ai consiglieri regionali della Lega, Zaffiri, Zura, Puntaroni e Carloni, hanno presentato questa mattina i temi principali del programma elettorale del partito con una visione da qui ai prossimi dieci anni. Il cavallo di battaglia rimane la sanità che deve tornare ad essere più vicina ai cittadini. L'obiettivo della Lega è quello di istituire un ASL per ogni provincia, rimodulare sia l'agenzia sanitaria regionale, sia gli ospedali di comunità e le cure primarie. Altro punto caldo è quello delle infrastrutture. Fano Grossetto è una cosa meravigliosa, su cui io mi sono battuto da quando mi sono iscritto a questo movimento tanto tempo fa. Se ne parla ad ogni campagna elettorale, o quantomeno il periodo democratico ad ogni campagna elettorale tira fuori la riapertura di questa galleria. E' uscita due o tre giorni fa, le siamo rani dicendo che finalmente ci siamo e riapriremo questa galleria. Io ho già depositato un'interrogazione parlamentare allegando le dichiarazioni di Alessia Morani e vorrò capire e sapere entro quando, come, verrà aperta questa galleria. Quindi i tempi certi, affinché non sia come sempre uno spot elettorale. Cari Alessia, dici dove sono i soldi, quando inizieranno i lavori e quando questi lavori si concluderanno, oppure come al solito è la propaganda spiccia del PD che ormai ci ha abituato e che ha distrutto questa regione e questi territori straordinari. Da noi stiamo dando risposte concrete in Umbra dove ormai da quasi un anno governiamo, nelle Marche siamo pronte a governare da settembre portando questa regione dove merita di stare. Ereditiamo una situazione devastante, ha detto invece il consigliere regionale Luigi Zara Puntaroni. Ripartire da zero non sarà facile. Ieri ho fatto un intervento molto violento, proprio bassandomi sulla mancanza di qualità, la mancanza che chi ha amministrato questi cinque anni non ha avuto capacità di controllare i vari ambiti, che sia stato aeroporto, porto, infrastrutture, sanità, dove tutti quanti hanno scialato, perché è mancato i controlli. Ma oltre a mancare i controlli bisogna ripartire a zero, bisogna mettere nei posti, in posti importanti, gente con grande capacità, gente che si spende per il territorio, perché mettere lì l'amico e l'amico non porta a nessuna parte. Per ripartire, secondo Mirko Carloni, sarà fondamentale togliere burocrati, assumere medici e infermieri, ma anche rendere efficiente il sistema sanitario per abbattere la mobilità passiva. Al centro del programma ci sono anche le microimprese artigiane, che hanno grandi difficoltà ad essere competitive e necessitano di un intermediario finanziario e di un fondo per dare forza al capitale sociale, agevolare gli investimenti e favorire l'occupazione. Tra i progetti della Lega rientra poi l'urbanistica, con una legge strategica per il rilassamento, il risancio economico e la valorizzazione dei piccoli borghi, per troppo tempo dimenticati. Il tema più caro al consigliere regionale è quello dell'emigrazione. È un patto con le università per fermare attraverso start-up finanziate dalla regione i giovani, i talenti e i cervelli, perché stiamo assistendo ad una emigrazione senza precedenti e stiamo assistendo ad una vera e propria fuga di tanti giovani, una generazione intera che se ne sta andando. Questo tema è necessario affrontarlo per la politica, altrimenti, come prevede uno studio, nel 2030 si saranno un milione di abitanti nelle Marche, quindi perderemo mezzo milione di abitanti, la maggior parte saranno i giovani dopo la laurea che andranno via. Questo è un tema su cui la politica deve farsi carico, perché altrimenti sarà una terra che non avrà più una generazione intera. Io vedo tanti miei amici che se ne vanno e questo è veramente sconfortante ed è una sconfitta di tutti. Gli esponenti del partito ieri sera si sono riuniti per la tradizionale cena della Ruspa, ma ancora non sono state sciolte le riserve sui nomi che andranno a comporre le liste dei candidati. L'ufficialità verrà data nelle prossime settimane insieme al Premier Matteo Salvini. In ogni caso, a sicura vice segretario nazionale della Lega Andrea Crippa, saranno persone competenti, oneste e che hanno a cuore il progetto di cambiamento. Il voto nelle Marche, aggiunto, sarà anche un voto nazionale. Dai risultati delle elezioni regionali dipenderà anche la tenuta del Governo. Si vince in squadra, si vince tutti insieme e quindi il Centro Destro Unito è una condizione necessaria per provare a vincere questa Regione. La Lega, da forza responsabile e matura, ha deciso di fare un passo indietro per farne tre avanti quando vinceremo e per rivestire quegli incarichi strategici e avere quelle deleghe strategiche che ci porteranno a dimostrare il buon Governo in questa Regione.